Dalla poltrona blu gonfiabile, un saluto per Eza, Capitano Futuro 2013, grazie per l'iniziativa, grazie per la pazienza che avrete nell'ascoltare il pezzo, questo è Grezz MC, aka B-Boy Panzerfunk, representing Break & Breakfast Crew, Zona Alto Garda, Garniano, yes, e questo è il mio pezzo per il contest. Oh, è così, uccidiamo l'italiano, gli assassini non sono federalisti dai gusti unti o da uschia di obonum al trono degli ingiusti siedoli, giovani d'oggi colpevoli non solo di assassino, bensì della violenza adoperata, adoperata acciuta dalla società per ogni K utilizzata, ogni H martoriata, ogni parola abbreviata a sé, l'abbreviazione è fatta per moda e non ad brevitatem. La lingua italiana domina non solo su legge, ma è legge, si è legge, il conoscitore di è grege, opere di Pascoli, non te che al massimo Pascoli, un grege, io ho barato musica per rispetto e 4-4 sta sul fondo di un baratro tetro da cui ti colpisco con frecce dalla punta di pletro e dichiarato lo stato d'assedio, mi siedo e sedio, mi appare in pieno giorno dicendomi di ascoltarlo, rispondo sì e do, come la prima e l'ultima nota, nota che se stai poco attento, pilla, nota, nota, mi sulle braccia per seguire la moda, la mia mente non mi sto dietro a scoda come sul bagnato una scoda, per diventare numero uno come il vecino di paperone, scremo i decimo, magie che descrivo come Amelia, quella pozione nel calderone, nel decamerone che fanno belle boccacce di obò, cacciorime a casaccio e a casa ciò, libri di scuola non a scopo estetico, non sono un esteta come i dannunzi e pratico la borrime come Catullo, un poeta agnoterico in più, punta un'arcadia di poeti e cantoni, nicapreti con l'arco la barca provvidenza di intoni, con toni cupi come Dante e Virgilio attraverso gironi, che non è solo un giro nei cerchi infernali, ma anche agli incroci stradali, incroci a cattoni o situazioni dei peggiori rioni, miri a rimare come chi ammiri, rimirabile intento, ma intanto niente impianto e vita da boimiene, e con la crema tipo Baudelaire ti ubriachi d'assenzio, fai silenzio che sentenzio con l'assenza al tuo senso, ultimamente unisco parole puntando più al suono che al senso e se penso che se drizzo le orecchie a modi daino, sento la moda dei modà, dico daino, che è il capo che con un cenno di capo da brani di poca poeticità, tipo coppia un successo a modi capò, non capirò, ma è una picca di quest'era, dove chi picca è il più forte e non ha mai sentito la storia di una capinera, gli ho minacciato di essere messo al bando, brandisco un micro, quindi imbandisco un disco, disco, c'è anche argomenti esenti dal classico tipo. Yes, grazie mille per la possibilità, e grazie a che hai avuto la pazienza di arrivare fino qui in fondo, e spero che il pezzo piaccia, questa cosa si fa solo per amore dell'hip hop, bless and keep doing it, thank you.